Decorazioni e addobbi natalizi, gadget e giocattoli per bambini. Tutti fuori legge. La Guardia di Finanza di Pesaro ha sequestrato 10.500 prodotti di fabbricazione cinese, risultati non conformi alle norme del Codice dei Consumi. Prodotti trovati in vendita in un negozio pesarese gestito da un imprenditore dello stesso paese asiatico. Nell'esercizio commerciale, infatti, migliaia di prodotti risultavano mancanti dell'obbligatoria etichettatura della denominazione legale merceologica del prodotto, del produttore e dell'importatore, nonché del paese d'origine, se estraneo, alla comunità europea. Senza questa indicazione è infatti impossibile escludere la presenza di sostanze che possono recare danno a persone o all'ambiente. La merce sequestrata dalle fiamme gialle pesarese è del valore di 3.300 euro, mentre l'imprenditore cinese è stato segnalato alla Camera di Commercio pesarese per definire sanzioni pecuniarie che possono arrivare addirittura fino a 25.800 euro.